Ci sono buone notizie per la ricostruzione post-sisma in Abruzzo. La cabina di coordinamento guidata dal commissario Guido Castelli ha infatti approvato un'ordinanza che aumenta i finanziamenti per diversi interventi nei comuni colpiti dal terremoto del 2016. Insieme con il presidente della regione, Marco Marsilio, abbiamo ascoltato le richieste dei territori e le abbiamo tradotte in azioni concrete, ha dichiarato Castelli. L'aumento dei prezzi degli ultimi anni non poteva non impattare anche sulla ricostruzione e con questo stanziamento di risorse aggiuntive probabilmente si intende evitare blocchi e accelerare il completamento dei lavori già avviati. Per Cellino a Tanasio sono stati stanziati un milione di euro per la sede municipale, per un totale di 2 milioni e 300 mila euro. Per Montorio al Vomano, sempre in provincia di Teramo, 449 mila euro per l'ex dispensario ora a circolo degli anziani, per un totale di 850 mila euro. Infine per Lecce dei Marsi in provincia dell'Aquila, rimodulazione e accorpamento degli interventi per gli edifici ATER di edilizia residenziale pubblica. Il contributo per il lotto 1 aumenta di 1 milione e 340 mila euro, per un totale di 5 milioni e 100 mila euro, mentre quello per il lotto 2 aumenta di 1 milione e 100 mila euro, per un totale di 3 milioni e 100 mila euro.